C'è una formula magica che taglia ogni discussione o permette di fare degli articoli bomba quando si parla di violenza sulle donne ed è, lo dice l'Istat, sono dati Istat. Vediamo qualche esempio di come si può titolare efficacemente facendo riferimento ai dati Istat. Solo qualche esempio. 7 milioni di donne vittime di violenze, 6 milioni vittime di abusi, 8,3 milioni sottomesse, 9 milioni di donne molestate, 8,3 milioni di donne, una donna su tre, una legge contro la strage delle donne, abusi, l'emergenza nei numeri, violenza sulle donne, la strage continua, niente meno. Quindi è possibile facendo leva sui dati Istat fare questo tipo di comunicazione, ma sono dati reali, l'Istat li ha dati davvero? Facciamo un attimo il punto su quello che l'Istat ha detto perlomeno negli ultimi otto anni su questa materia. Andiamo allora a vedere questo grafico che ho preparato. L'Istat ha rilasciato quattro relazioni nel 2010, due nel 2016 e una nel 2018. Vediamo un po' cosa dicono. Nel 2010 si riguardava le molestie sessuali ed è risultato che 3,8 milioni di donne in Italia sono vittime di molestie sessuali pari al 19% della popolazione femminile totale. Nel 2016, anno d'oro dell'Istat, durante il governo di sinistra, ha ricevuto molti fondi dal Dipartimento per le pari opportunità per fare questo tipo di ricerche. La prima ricerca del 2016, nel novembre, parla di stalking e dice che 3,5 milioni di donne, pari al 18% del totale femminile in Italia, sono vittime di persecuzioni. Un mese dopo, nel dicembre, il regalo di Natale, si parla di violenza contro le donne in termini generali e il risultato è che 6,8 milioni di donne in Italia sono vittime di violenza, pari al 35% del totale. Nel 2018, anno di elezioni, un mese prima, del tutto casualmente, esce una nuova elaborazione o rielaborazione, non è chiaro, dei dati sulla violenza sulle donne. Il risultato è sorprendente. Molesti e ricatti sessuali, le donne che hanno patito questo tipo di azione ammontano a 8,8 milioni di donne. Pare al 45%, sia quasi la metà delle donne italiane ha subito molestie e ricatti sessuali, secondo l'Istat. Sono dati spaventosi, effettivamente, e in questo senso i giornali forse hanno ragione a parlare di strage, olocausto, massacro e tragedia. Ma come vengono fuori questi numeri dall'Istat? Sono numeri reali? Viene da chiedersi se davvero l'Istat abbia avuto le risorse umane, finanziarie e strutturali per intervistare tutte 8,8 milioni di donne in Italia. Ritenete una cosa possibile questa? Ci vorrebbero anni per farlo e ci vorrebbero milioni di euro per farlo, molto più di quelli che ha ricevuto l'Istat dal governo. E dunque da dove vengono fuori queste cifre? È molto semplice, si tratta di proiezioni statistiche, non sono dati veri, sono proiezioni statistiche. In breve, che cosa sono? Prendo un piccolo gruppo di persone, lo chiamo campione rappresentativo, gli faccio delle domande e i risultati li proietto su un insieme più grande. Esempio stupido, nel mio condominio ci sono 50 appartamenti, passo da ognuna e chiedo se nell'ultima settimana hanno mangiato la pizza. 30 mi dicono di sì, 20 mi dicono di no. Applico su questi dati alcune formule particolarmente complesse, di tipo statistico-matematico, e concludo che in città, nell'ultima settimana, X migliaia di persone hanno mangiato la pizza. Questa è la proiezione statistica, ma è un'ipotesi, è una stima, che si fa con delle formule particolarmente complicate. Ve ne faccio vedere qualcuna, le ho raccolte proprio dal sito dell'Istat. Un misto di aramaico, cinese, arabo, qualcosa di veramente complesso da gestire, bisogna studiarlo profondamente. Comunque i dati reali passati al setaccio di queste formule danno una proiezione. Allora viene da chiedersi qual era il campione rappresentativo di ognuna di quelle ricerche che abbiamo visto. Vediamolo. Nel 2010 il campione ammontava 60.000 donne, pare allo 0,3% della popolazione femminile, che proiettato diventa il 19%. Sullo stalking erano 25.000, 0,1% della popolazione femminile, che diventa il 18% nelle proiezioni. Sempre nel 2016 il campione diminuisce un po', sono 24.000, ma attenzione nel 2018 quando risultano 8,8 milioni di donne ci aspettiamo che il campione sia molto più alto. Sorpresa, no, sono 16.000 donne che sono state intervistate e che poi sono diventate si è passati dallo 0,08% a 45% della popolazione femminile. Cosa voglio dire con questo? che Istat è stato disonesto, in malafede, prezzolato. No, ha agito correttamente anche perché per ognuna di queste ricerche mette le note metodologiche dove spiega come ha proceduto ed è da lì che ho preso questi dati sui campioni. Quindi è tutto abbastanza trasparente. È un po' curioso che il campione scenda e le proiezioni salgano, ma lasciamo stare, il problema non è lì. Il problema è come questi dati poi vengono utilizzati. Avete visto i titoli dei giornali, 8 milioni di donne sono vittime di violenza, 9 milioni, 7 milioni, come se fossero dati reali, in realtà sono appunto stime, sono ipotesi. Il modo giusto di comunicare questo tipo di dati è che in Italia le donne vittime di violenza potrebbero ipoteticamente, se questi dati venissero verificati, essere 8 milioni. Suona diverso, suona decisamente diverso. E come facciamo a verificare che queste stime siano un minimo realistiche? Lo dice di stat stesso, incrociandolo con altri dati reali, quindi i dati delle denunce, i dati dei ricoveri al pronto soccorso per violenza domestica. Se incrociamo questi dati, possiamo capire quanto siamo andati lontani o meno dalla realtà nel fare queste stime. E se lo facciamo, vediamo che le denunce sono 40 mila, 50 mila all'anno, siamo sempre molto lontani dagli 8,8 milioni di donne. Quello che voglio dire è che quando vedete queste cifre, quando qualcuno vi zittisce portando queste cifre, ricordatevi che si tratta di ipotesi, non sono dati reali, anzi, quando si incrocia il tutto con dei dati reali, l'esito è molto molto diverso. Di nuovo, non fatevi prendere in giro. Alla prossima!